Sosteniamo e un grande applauso, dai! Un atto contro chi vede in questa città solo un'occasione di speculazione, non ci avranno mai, la città non si arrende, la città è una città in lotto, una città creativa, è una città che si riprende anche fisicamente gli spazi di democrazia che vengono negati. Noi non vogliamo vivere in una città dove passano le grandi navi, in mano alle lobby della croceristica, in mano a chi in questa città vede solo l'occasione di profitto. Noi con queste azioni inventive, pacifiche, ma radicali di blocco vogliamo dire che non ci imporranno mai il loro volere perché Venezia esiste, Venezia è viva, Venezia resiste. Avanti lo grandi navi!